A Cosmo di Leonardo, uno dei pilastri storici di Telemolise, per la sua dedizione e l'impegno profuso in tutti questi anni, grazie di cuore, Quintino Pallante. Momenti celebrativi importanti che lasciano spazio alla commozione per omaggiare una delle figure professionali storiche di Telemolise, Cosmo di Leonardo, che oggi raggiunge e festeggia un traguardo significativo, quello del pensionamento. Le immagini, da lui realizzate in più di 35 anni di professione, hanno raccontato la politica, la cronaca, la cultura di questa regione, contribuendo alla crescita giornalistica della redazione di Isernia. Il direttore di Telemolise, Manuela Petescia, ha voluto ricordare a Cosmo, con toni anche scherzosi, che il suo pensionamento non è solo un traguardo ma un nuovo inizio. Continuerò a chiamarti la mattina, ha detto, affidandoti mille incarichi che solo tu puoi svolgere, dunque, se pensi di esserti liberato di noi, ti sbagli di grosso. È stata poi la volta dell'editore, Quintino Pallante, che ha ricordato, commosso, i giorni in cui Lelio Pallante, suo padre, il primo indimenticabile editore di Telemolise, scelse Cosmo di Leonardo tra i suoi primissimi collaboratori. Ai tempi lui era solo un bambino. A Cosmo, che oggi iniziano nuova fase della sua vita, gli auguri più affettuosi da parte di tutta la grande famiglia di Telemolise.